Operazione straordinaria, un'altra volta di Paratici, giocatore eccellente che per i prossimi anni blinda praticamente la parte difensiva bianconera, con l'arrivo di Sarri avere dietro un giocatore come Delicte che sa fare molto bene, la parte anche di impostazione, meraviglioso sulla parte di impostazione difensiva, giocatore che nei prossimi 7-8 anni terrà la Juventus salda bene dietro, quindi non credo che tutte le altre squadre pensano a guardare davanti, davanti, avanti, esterni però la Juventus... Anche Napoli si è sistemata con Manolas Napoli con Manolas e quelli va lì, però la Juventus dietro con Delicte ha fatto un'operazione paratici straordinaria